Sta per arrivare il canone in bolletta, ma non tutti lo pagheranno. Gli esclusi, chi non ha la TV, gli over 75 anni con reddito basso e i proprietari di seconde case. Ha la seconda casa qui? Canone TV? Canone TV? Lo paga o no su questa? Su questa? No. Perché chi lo paga già sulla prima casa non dovrà pagarlo anche sulla seconda, ma la novità è che l'esenzione non sarà automatica. Occorre compilare un modello predisposto dall'agenzia dell'entrata in cui si dichiara che non si ha il dovere di pagare il canone. Modello che non arriverà a casa. Bisognerà andare sul sito dell'agenzia, scaricarlo, compilarlo, dichiarando di non possedere apparecchi TV o di non dover pagare il canone perché lo paga già qualcun altro con cui risiedo. Ovviamente è complicato per le persone anziane accedere a un sito internet, scaricare il modulo, compilarlo, spedirlo per posto o via telematica. Queste seccature sono infinite, è il paese delle seccature. La bolletta elettrica la paga sempre con il red bancario? Sì. E anche qui altro pericolo in agguato. Se non si compila il modulo, il rischio per coloro che hanno il red, cioè la debito sul proprio conto corrente, che il canone venga attribuito tramite la bolletta elettrica sul proprio conto corrente, quindi si paga due volte il canone. Bisogna attivare le procedure per chiedere il bolso con i tempi della pubblica amministrazione. Allora.